...andate assentive sul caso il Campidoglio. L'attuale municipio quello che ha deciso è di mettere a bando le attività realizzate in questi locali, però non ci sarà alcuna interruzione, quindi l'associazione potrà rimanere lì e svolgere le attività che già realizza fino appunto alla chiusura dell'esplitamento della procedura di gara.